Di nuovo insieme, come ai vecchi tempi della provincia nel 2009, quando lui era presidente e lei assessora. La sindaca Patrizia Barbieri ufficializza l'accordo elettorale con la civica Liberi di Massimo Trespidi. Sarà una sola e non due la lista civica che si schiererà a sostegno della prima cittadina alle elezioni del 12 giugno al fianco delle tre dei partiti Lega Fratelli d'Italia e Forza Italia. Nel simbolo di color fucsia compare la scritta Patrizia Barbieri Sindaco, incastonato nel logo lo spicchio blu con Trespidi con Liberi. Confermate l'indiscrezione di questi giorni, il leader di Liberi sarà nella testa di lista insieme agli assessori uscenti Federica Sgorbati e Jonathan Papamarenghi. Noi crediamo fortemente nella componente civica che insieme alla coalizione di centrodestra che mi ha sempre sostenuto continuerà a sostenermi, è un valore aggiunto, è una componente civica che ci vede uniti in un programma che è quello di far crescere ancora di più la città, abbiamo una progettualità che abbiamo già sviluppato ma che adesso vogliamo portare a terra, noi pensiamo davvero che Piacenza possa volare alto e le basi sono state gettate, vogliamo completare questo percorso e soprattutto renderlo concreto il più presto possibile. Trespidi ha voluto precisare che si tratta di un'alleanza siglata su basi amministrative e non politiche. Sicuramente un'alleanza cementata da un'amicizia che viene da lontano con Patrizia Barbieri, la nostra è sempre stata un'opposizione costruttiva che non ha fatto sconti ma che ha sempre fornito anche il contributo di una proposta alternativa e comunque di stimolo a che l'amministrazione potesse dare il meglio di se stessa. Quella che si apre per i prossimi cinque anni è una nuova fase, quindi un nuovo inizio, c'è il desiderio e la volontà di rilanciare Piacenza e di farlo con quella fiducia, quella speranza che i piacentini attendono.